Presidente, ricevere questo prestigioso premio Le Grandi Guigli della Grande Milano la carica maggiormente di orgoglio o di responsabilità? O di entrambe? Ma direi sicuramente di entrambe. La responsabilità innanzitutto. L'orgoglio è il completamento di aver fatto un percorso che oggi ha avuto questo prestigioso riconoscimento. Devo dire che entrambe le cose. Siamo al termine di un anno particolarmente impegnativo certamente non solo per il mondo intero ma anche per l'imprenditoria italiana. Sofferto però determinato, con grinta affrontato a pochi giorni dalla fine di quest'anno ma anche dall'inizio del prossimo. Che auspicio un manager e un imprenditore come lei si sente di voler oltre che di poter fare? Devo dire che i percorsi sono sempre difficili. Non ho mai conosciuto un anno non difficile. Quindi devo dire che siamo abbastanza abituati ad avere nuovi propositi, nuove idee e armarci di rinnovata forza. Il tema vero è il tempo che sembra trascorrere in modo troppo veloce e che non ci consente di conseguire quei progetti che comunque bisogna consolidare, sviluppare. Comunque credo che ci sia grande speranza, vedo un movimento interessante intorno alle imprese e io mi auspico un anno migliore, 2016.